Buon pomeriggio con il tappello di Irma. Care amiche e cari amici, oggi pomeriggio vorrei ricordare con voi un'altra delle nostre eccellenze italiane nel mondo del nostro Made in Italy, le sorelle Fontana, famose per la loro creatività, la loro arte, il loro stile, la loro moda conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo pensato di raccontare di loro però nel prossimo video perché l'abbiamo pensato e creato in un modo un po' diverso e quindi vorrei ricordarvi alcune cose in questo video per poi lasciarvi la visione del prossimo. Vi ricordo che come sempre trovate ulteriori approfondimenti degli argomenti di cui vi parlo nei video e dei personaggi sul nostro sito www.ilcappellodirma.it e sulla nostra pagina Facebook. Se vi sono piaciuti vi chiediamo gentilmente di lasciare un like e di condividere i video con i vostri amici. E poi vi ricordo che i pensieri sono magici e belli se indossiamo fantastici cappelli. Grazie e alla prossima!